non vedo l'ora di giocanti da brawl stars ok adesso faccio qualche partita come al solito ho tantissimi brawler guardate vi faccio pure vedere il brawler 54 su 61 se ne sono aggiunti quanti sono aggiunti sempre chiesto ma senza mani ma poveri hanno messo perché io ho cercato della vita e poi provare no più da lontano da lontano quanto fa fa poco andiamo lassù per ora sapete cosa fa ah ho capito che non sa cosa fa c'è lì che bello c'è c'è con questo devi fare subito non è un po' no ancora non sa una seconda raga un pochino raga un pochino vi dico io non era vostra connessione era mia vedete no allora facciamo adesso facciamo un po' di partita allora mettiamo un leon conost mi piacere che senso baskets ma che bello bello ragazzi bello ok su 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 puoi lo è stato ma che bello ma no ma no ma che bello che bello eh ma che brutti ma che brutti se questi fanno un botte dei nani vabbè usciamo tanto ok dobbiamo seleccionare un brauner seccioniamo leone ok 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 oh ma regga un boccio è troppo questa è una condizione ma quello è di certo molto buono ha detto che non lo hanno va a caccare di bambiscià va a caccare di bambiscià va a caccare dai ma noi facciamo schifo ma noi facciamo schifo c'è si vede c'è facciamo schifo c'è ma dai c'è un po' di stiletti dai forse perché non la stai andando qua vediamo questo cos'è il snow compass proviamo che dopo chiudo perché devo fare qualcosa question di famiglia grazie perché c'è un click ma non c'è da super carino tocca ancora così non devo fare niente oddio e io mi chiamo cristiano otto guarda grazie si si così così grazie 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 ragazzi ragazzi troppo io mi resto qua con il mio crone che su bruce e io raggo troppo no adesso sanno che io me ne fanno subito ok ok vai 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 attaccati perchè non c'è vabbè ci apriamo questa cassa se è una cassa se è una cassa ha avuto i carichi dai ok vediamo cosa ha casa bravo migliorino migliorino 35 dai vabbè ragazzi ci vediamo in un prossimo video ciao ciao